Trieste. Un nuovo elemento nella complessa investigazione sulla misteriosa morte di Liliana Resinovic. A mattino 5, una compagna di nome Gabriella ha fatto dichiarazioni potenzialmente cruciali per comprendere gli eventi precedenti alla scomparsa della donna, come registrato dalle telecamere di sorveglianza. Quel giorno, Gabriella seguiva da vicino Liliana. Nel caso Resinovic, un entomologo forense al lavoro per determinare il momento della morte di Liliana. Nel caso Resinovic, un entomologo forense al lavoro per determinare il momento della morte di Liliana. Nel caso Resinovic, un esperto di effetti visivi ricostruisce il tragitto di Liliana prima della sua scomparsa. Nel caso Resinovic, un esperto di effetti visivi ricostruisce il tragitto di Liliana prima della sua scomparsa, esattamente un minuto e cinquanta dietro Lilli, fino al punto in cui lei getta la spazzatura, poi sparisce, ha detto l'amica di Liliana ai microfoni di Mediaset. Proseguo continua la donna passo davanti alla fruttivendola, poi arrivo a piazzale Gioberti, Lilli viene vista attraversare le strisce pedonali, mentre io P spericolata decido di attraversare dall'altro lato del marciapiede e correre avanti. Seguo lo stesso percorso fino alla Wind, dove avrebbe dovuto essere Lilli. L intervistatrice chiede Lilli doveva andare alla Wind, mentre tu dovevi andare in palestra, ma passava per il centro CIT davanti alla Wind, spiega Gabriella, e riguardo al percorso di Liliana, osserva non sappiamo esattamente quale tragitto abbia seguito Lilli, possiamo dire che nei primi cinquecento metri, teoricamente sottolineo, teoricamente non ci sono registrazioni dei bus lungo il viale Raffaello Sanzio, ma da L davanti al panettone, vicino alla chiesa, ci sono molte opzioni, ci la fermata dell'autobus, il tabaccaio sulla sinistra, il medico che apre alle 8.30, il martid, lei procedeva più lentamente, infatti recupero un minuto su di lei, Perch si ferma a buttare la spazzatura che era molto più pesante all'inizio poi dopo aver gettato la spazzatura perde quasi un minuto svoltando L angolo e scomparendo un minuto e cinquanta avrei potuto salvarle la vita almeno quel giorno. Capisci quanto sia stata angosciante quella situazione? Conclude l'amica di Liliana Resinovic, intervistata da mattino 5.